Questa notte all'età di 94 anni è morto Mario Andreoli, una luce splendente di Manarola. Sì, è un lutto che colpisce tutta la comunità. Siamo rimasti molto colpiti, anche se la notizia era purtroppo attesa. Mario è una persona speciale, è stato per noi un punto di riferimento e ha fatto del suo sogno un progetto che poi è diventato il simbolo delle 5 terre nel mondo. E una cosa ancora più importante, con il presepe Mario ha unito tutta la comunità. Noi oggi siamo legati al presepe di Mario e abbiamo lavorato insieme, lavoriamo insieme tutti gli anni per riaccendere questa luce di speranza. Mario è stato anche per me molto importante, per me è stato un privilegio, un onore essere al suo fianco ogni anno per accendere il presepe. Una persona veramente buona, che aveva parole di incoraggiamento per tutti. Quindi vogliamo ricordarlo e stringerci ovviamente alla famiglia, ma anche ai tanti amici che in questo momento soffrono con noi la perdita di Mario. La luce di Mario Andreoli sarà appunto una luce che illuminerà ancora di più il suo presepe, che continuerà a vivere. Sì, il nostro impegno per il futuro è quello di mantenere il presepe sia al comune ma anche con il supporto del Parco Nazionale delle 5 terre. Quindi questa meraviglia si ripeterà ed è proprio la nostra responsabilità portarla avanti per riconoscere in questo modo, direi il modo migliore, a Mario un grandissimo omaggio e quindi da oggi possiamo dire che nel presepe brillerà per sempre la luce di Mario e quindi Mario sarà ancora con noi.